Sentiva dei colpi provenire dal cassone del camion che si era fermato a fare carburante nell'area di sosta in cui lavora lungo la nuova statare del Santo all'altezza di Cadoneche, una circostanza che più che singolare gli è parsa a sospetta al punto che il gestore del distributore ha pensato di avvisare i carabinieri. L'intuizione si è rivelata corretta perché dal camion i militari hanno visto uscire un'intera famiglia di iraniani, papà, mamma e due bambini di 12 e 6 anni. In buone condizioni di salute il gruppo viaggiava clandestinamente destinazione Svezia. Per l'autista del camion un autotrasportatore montenegrino è scattata la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.